Hai fatto qualcosa di divertente sabato sera? Beh, tutti i ragazzi del mio partetto vocale sono stati uccisi, perciò... No, non direi. Se invitassi Kristen a uscire in base alle statistiche, forse accetterebbe. Infatti non glielo chiedo. Troppo timido? Troppo occupato! Indossava un paracadute? No, niente paracadute. Sono nello S.H.I.E.L.D. per proteggere la gente. Capitano, per costruire un mondo migliore, a volte è necessario distruggere quello vecchio. E questo crea nemici. Gran parte dell'intelligence non crede che lui esista. Chi ci crede lo chiama il soldato d'inverno. È veloce. Forte. Ha un braccio di metallo. È pronto? Basta un solo passo. Morirebbe della gente. Non permetterò che accada. Quando cominciamo? È già cominciato. Il prezzo della libertà è alto. Ed è un prezzo che sono disposto a pagare. Mi ha detto di non fidarmi di nessuno. Quindi facciamo così. Tutto è valido. Pare che ora sia tu a dare gli ordini, capitano. Non sbaglia. Come riconosciamo i buoni dai cattivi? Se ti sparano addosso, sono cattivi. Che crei e semplice. Ma sono ragioni, capitano,قتon si tornano. Grazie a tutti.